Nelle scorse ore il padre della spadista si è scagliato contro l'attuale fiamma di Edoardo Tavassi, scatenando l'ira della sorella. Al padre di Antonella Fiordelisi la storia d'amore fra Edoardo Donna Maria e Mikolin Corvaia proprio non piace per nulla. A tal punto che nelle scorse ore l'uomo si è lasciato andare ad un durissimo sfogo sui social che non solo non è passato inosservato ma che ha scatenato grande scalpore. Alla base dello scontro c'è come sempre il fatto che, in passato, Edoardo Donna Maria e Mikolin Corvaia hanno avuto una breve storia d'amore. Motivo per cui, fin da quando quest'ultima è entrata in casa, fra Mikolin e Antonella in casa sono volate scintille. Ebbene qualche ora fa, chiacchierando con Jaelle de Donna, Mikol si è resa protagonista di alcune frasi molto velenose nei confronti dei Donnalisi. In buona sostanza, Mikol ha lasciato intendere che il suo ex si compoterà con la spadista nello stesso modo in cui ha fatto con lei. Una volta terminata l'esperienza della casa. A quanto pare. La scaricherà senza pietà. Non riuscivo ad ascoltarla talmente parla lei. È limitata. Ti giuro io lo conosco benissimo. Quando uscirà da qua? Ha commentato Mikol. Sottovoce per non farsi sentire. Tanto è bastato a Stefano Fiordelisi per farsi partire un embolo. Nel pomeriggio. Il papà di Antonella Fiordelisi ha sbroccato sui social. Scrivendo parole decisamente poco carine. Mikol è frustrata perché Edo se l'è portata a letto non innamorato e l'ha scaricata. Questa è la verità. Doveva pensarci prima. Ora Edo è molto innamorato cosa che di lei non è mai stato. Sta pensando a un futuro con Antonella perché gli fa provare emozioni che non provava da 4 anni. Questo è quello che conta davvero. Dire a una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno buscetta come Clizia fece anni fa e fu squalificata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.